Benvenuti agli appuntamenti della settimana. Il 6, il 7 e l'8 maggio torna la Coppa della Perugina, un viaggio nel cuore verde dell'Italia, fra città d'arte, antichi borghi, ridenti colline e splendidi itinerari mozzafiato. Nell'incontaminata e affascinante campagna umbra, tre giorni emozionanti impergnati in un equilibrio perfetto tra competizione, turismo, cultura ed enogastronomia. Domenica 8 maggio torna il tradizionale appuntamento con la Grifonissima, la storica corsa podistica per le vie di Perugia che giunge quest'anno alla sua trentasesima edizione e rappresenta anche uno dei più importanti appuntamenti del podismo italiano. Domenica 8 maggio il Motoclub Spoleto organizza l'evento In Moto Direzione Maggione per non dimenticare l'Otto, un itinerario da Spoleto all'Autodromo di Maggione per un bellissimo giro moto turistico. L'incontro è organizzato in occasione dell'Antonelli Day che si svolgerà verso l'Autodromo di Maggione e dove saranno presenti i campioni del motociclismo, un'occasione unica per ricordare il pilota Umbro Andrea Antonelli. Martedì 10 maggio approda al Palo Evangelisti di Perugia il Mengoni Live 2016, nell'ambito della rassegna Umbria Eventi d'Autori a cura dell'Associazione Umbria della Canzone della Musica d'Autore. Dall'11 al 14 maggio Perugia diventa una città della scienza e dell'ambiente, con Panorami d'Italia, l'iniziativa On The Road che il settimanale Panorama da tre anni porta con gran successo lungo tutta l'Italia. Sabato 14 maggio il gruppo operativo AISM Foligno Spoleto Valnerina, in occasione dell'evento nazionale, oltre l'ASM, organizza il convegno La Sclerosi Multipla, aggiornamento sulle terapie e aspetti psicologici presso la sala conferenze di Villa Redenta a Spoleto. Dal 12 al 16 maggio la casa editrice Bertoni Editori sarà presente con tutti i suoi autori al Salone Internazionale del Libro di Torino. Da venerdì 13 a domenica 15 maggio, in occasione della tradizionale festa della Pentecoste, Orvieto si vestirà a festa con i colori dei suoi quartieri, grazie alle infiorate. In piazza 29 Marzio, nei due giorni, si terrà la mostra mercato flori vivaistica Orvieto in fiore, che propone le eccellenze delle produzioni dei vivai, collezionisti di fiori e piante, ma anche curiosità e prodotti tipici artigianali ed enogastronomici. Sabato 14 maggio, alle ore 17.30, verso il Museo Civico di Palazzo della Penna di Perugia, Costanza Bondi presenta il suo nuovo libro Archetipi Alfabetici, segni, simboli e significati svelati dalle lettere dell'alfabeto, un saggio che apre nuovi orizzonti e analisi di studio sulla storia dell'uomo e della sua evoluzione. Domenica 15 maggio torna alla Corsa dei Ceri di Gubbio, storica corsa che si svolge alla vigilia della festa del padrono Sant'Ubaldo. Domenica 29 maggio torna all'annuale appuntamento con il Premio Minerva Etrusca. Giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione, il Premio Minerva Etrusca è un importantissimo riconoscimento che ogni anno viene conferito agli Umbri che si sono distinti nel sociale, nello sviluppo delle arti e della cultura. Quest'anno si svolgerà presso il Teatro della Speranza a Perugia. Arrivederci, alla prossima settimana.